E' il sogno di ogni bambina, è un rito per molte tribù, è libertà, energia, disciplina, rispetto, gioco, svago, costrizione e sfogo, sudore, impegno e fatica, dolore e gioia. Lei è la danza, in tutte le sue espressioni, in tutte le eccezioni nuove ed antiche. La danza, il nostro grande amore. Come ogni viaggio, la danza è un modo per conoscere se stessi e gli altri. Ecco perché abbiamo deciso di fare un viaggio con voi, caro pubblico di Punta Secca. Un viaggio a passo di danza, balleremo sul mondo, per voi, per farvi conoscere ciò che noi amiamo, i nuovi stili, i nuovi ritmi e per condividere con voi la nostra gioia quando balliamo. Salite a bordo! Accade qualcosa di magico quando balli. Tutto si allinea, il mondo è in perfetta sincronia e in quel momento ti senti pienamente vivo. Salite a bordo! Aimme oltre! Grazie a tutti. 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 Signore e signori, benvenuti a bordo della Camdancing Airlines. Cortesemente, vi preghiamo di prestare la massima attenzione alla dimostrazione delle caratteristiche delle procedure di sicurezza di questo aereo. Anche se siete soliti volare frequentemente, vi invitiamo ad ascoltare con attenzione le indicazioni degli assistenti di volo. Grazie a tutti. 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 Buonasera. Grazie a tutti. 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 regionale che nazionale in tutte le discipline artistiche e di coppia. Da due anni Camdancing opera anche a Santa Croce Camerina, presso la palestra Centro Body Art, e da quattro anni è presente a Comiso con la direzione di Desiree Sansone. Camdancing è l'unica associazione a Ragusa che pratica il Mucca Dance Sport Method, un nuovo programma di insegnamento della danza sportiva per i bambini dai 3 ai 6 anni. Studiato da grandi esperti allo scopo di divulgare la cultura dello sport tra i giovanissimi. Bene, entriamo nel vivo dello spettacolo proseguendo il nostro viaggio che ci condurrà da Oriente a Occidente con la guida di ballerini di altissima esperienza, ma anche giovanissimi. Al loro primo spettacolo, signori passeggeri, buon viaggio. Grazie a tutti i nostri spettacolo, grazie a tutti i nostri spettacolo, grazie a tutti i nostri spettacolo, l'eventari Grazie a tutti 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 Grazie a tutti